E piccoli gradosini, ciao a tutti, sono Nonai Tech per chi non mi conoscesse Allora, quindi appunto mi presento, ciao a tutti Questo video sarà incentrato su Leviatano Allora, come ho fatto per le lame del caos che abbiamo mostrato come si potenziano al massimo livello quindi raggiungere il livello 9, se non l'avete visto vi consiglio di guardarlo si troverà all'interno della playlist di questo stesso video Vi insegnerà appunto, passo passo, ma vi spiego addirittura dove si trovano proprio i nemici specifici di alcune parti del potenziamento delle lame che sono difficili da magari trovare da soli e la stessa cosa la facciamo adesso per il Leviatano Vi chiedo però prima per favore se potete iscrivervi al canale, se siete nuovi e di mettere un like al video, mi serve per poter continuare questo mio lavoro e per poter continuare a fare guide, è molto importante altrimenti col tempo sarò costretto a mettere le cose a pagamento volendole lasciare gratuite, vi chiedo per favore l'iscrizione al canale e il like al video Fatto ciò, vi spiego passo passo come si potenzia il Leviatano a livello 9 Allora, in ordine, come vi avevo fatto vedere per le lame del caos e anche per l'armatura che ho addosso in questo momento questa che vedete, trovate il video anche su come si ottiene questa armatura che è veramente molto figa, soprattutto per la difesa Allora, partiamo dalle lame comincerò in ordine, cioè scusami con Leviatano comincerò in ordine quindi partirò prima dal spiegarvi come si ottengono tutti i pezzi che anche avrete per forza se avete finito la storia però devo andare in ordine, ma così non ci perdiamo nulla partirò spiegandovi prima tutti quelli in ordine di storia come si ottengono, come li avrete magari probabilmente ottenuti e poi vi spiego dove si trovano i pezzi che invece dovete trovare solo esclusivamente esplorando Allora, il primissimo pezzo che trovate è durante la storia lo troverete quando dovrete affrontare il mostro sincero, non ricordo il nome ma mi sembra tipo la cacciatrice o qualcosa di simile che è nella missione del Fibun Winter quindi siamo praticamente all'inizio siamo proprio all'inizio gioco e affronterete questo nemico su mezzo cervo che è quel nemico che dovrete colpire sulle corna per poterlo stordire e praticamente si trova all'inizio proprio giuro, all'inizio gioco lei sarà la prima, questo nemico sarà il primo che vi dropperà il potenziamento per il levetano che ve lo porta a livello 2 fatto ciò sconfitta lei che è un mini boss e dovrete andare poi dopo ad Alfheim quindi il primo si trova all'inizio del gioco non lo potete mancare, Midgard il secondo invece si trova ad Alfheim ed è sconfiggendo Alva è un mini boss, non lo potete mancare perché per proseguire la storia lo dovete affrontare per forza è un elfo della luce e vi dropperà l'altra fiamma ghiacciata sconfitta lei per ottenere invece il terzo potenziamento che vi porta al quarto livello dovete farlo sconfiggendo Nidhog Nidhog non lo potete mancare è sempre legato alla storia Alva Nheim è il mostro che si sposta negli squarci dimensionali non il lupo quello che sembra più un super lucertolone sconfitto lui se non mi sbaglio quello è dal capitolo 6 e ottenete l'altra fiamma ghiacciata ulteriore quindi siamo adesso al terzo boss che vi porta a livello 4 adesso c'è il quarto boss che vi porta a livello 5 del levetano che invece questo è sempre legato alla storia precisamente ci troviamo nel capitolo 12 e qui dovrete andare ad Elheim sarete costretti ad andarci nella storia affronterete quello che è un viaggiatore uno di quei come li chiamava il gioco adesso non mi viene il nome perdonatemi ma se non mi sbaglio è un El Walker se non mi sbaglio è l'El Walker si il nome è El Walker quelli molto corazzati con l'armatura molto robusta e sarà lui a dropparvi la fiamma e qui siamo arrivati a un'ulteriore fiamma ghiacciata perché vi potenzierà il leviatano poi una volta fatto questo che quindi sarete arrivati a questo punto a livello 6 per potenziarla a livello 7 dovrete prendere e sconfiggere invece il Drago Cremesi che si chiama Drago Cremesi del terrore se non mi sbaglio si trova a Vanheim è fuori dal percorso della storia principale questo quindi usciamo fuori dalla parte storia dovrete andare quindi a Vanheim e precisamente vi faccio vedere io dalla mappa usciamo un attimo dal negozio andiamo sulla mappa cerchiamo Vanheim che mi ricordo la posizione più o meno se osservo la mappa ok ci troviamo più su dobbiamo andare in questa sezione di Vanheim e praticamente lo troverete vediamo un secondo solo ok da queste parti qui praticamente il nemico si trova in questa regione qui nella zona delle voragini e qui sconfiggerete il Drago il Drago Cremesi è un sconfitto lui tornerete poi dopo va bene al campo di Freyr accetti questa missione secondaria che ti apre appunto la possibilità di sconfiggere il Drago e ricordate capitolo 13 una volta fatto questo sconfiggete questo nemico e vi dropperà l'ulteriore fiammella fatto questo ulteriormente ce ne sarà invece uno degli ultimi che potete ottenere sempre con la storia principale nel capitolo 16 sarà con la fiammella numero 6 il fantasma della fiamma di Muspelheim se vi troverete nel capitolo 16 avrete sempre Grados in questo momento da utilizzare e quando andrete alla ricerca di Surtur e andrete via per fare appunto la via del Ragnarok lo incontrerete obbligatoriamente questo nemico si chiama fantasma della fiamma e una volta che l'avrete sconfitto vi dropperà la fiamma qui finiscono tutte quelle che potete trovare io ve l'ho detto in ordine cronologico per come le ho trovate io e anche per come vi è più comodo prenderle una volta fatto ciò però non avete più modo di poterlo fare arrivare a livello 9 senza fare una procedura precisa ora voi siete arrivati a livello 7 voi siete arrivati a livello 8 per il livello 8 dovrete affrontare allora potete scegliere se fare prima uno o l'altro ma vi consiglio di andare per ordine e starà affrontando dei berserk l'unico modo che potenziare quindi un'altra fiamma ghiacciata è quella di sconfiggere i berserk precisamente saranno i berserk di alfheim questi sono 3 non potete sbagliarvi perché sono gli unici berserker che troverete in coppia di 3 e e sono due sorelle che dovrete affrontare attaccandone una toglierete la salute anche dall'altra invece c'è ne una che invece sarà un boss singolo ma tutte e 3 combattono insieme se giocate a un berogotogorri reputo quelle essere le più forti e si trovano a vanheim vi faccio vedere anche dalla mappa se ricordo precisamente il dove ma comunque a vanheim ci sono solo loro e la mappa ve la mostrerà in automatico vediamo un attimino se aspetta no alfheim ho sbagliato ho detto vanheim alfheim aspetta ecco qui allora se non erro da queste parti se non mi sbaglio da queste zone qui sconfitto comunque il boss e ce n'è uno solo quindi una volta sconfitto il il berserker di qua vi dropperà questa fiammella intanto vi prego mettete like al video e iscrivetevi e fatto questo avrete modo di poter salire ulteriormente se siete saliti ancora e potrete arrivare al dovreste essere adesso all'ottavo livello quindi siete quasi al massimo per arrivare invece al nono e raggiungere addirittura la forza di 130 signori dovrete fare delle cose specifiche dovrete raccogliere quelle che sono delle lacrime di hell allora le lacrime di hell vi servono ed è la stessa cosa che vi ho spiegato per le lame del caos che facevano la stessa cosa ma con un'altra procedura che quindi vi invito a guardare il video per questa dovete invece ottenere le lacrime di hell sono sempre sei allora due sono immancabili cioè le potete prendere le trovate per forza nel capitolo 11 otterrete la prima e nel capitolo 12 la seconda per ottenere le altre invece dovrete riparare quelli che sono gli squarci che verranno fatti letteralmente dal lupo che incontriamo all'interno ragazzi potrebbe contenere spoiler quello che sto dicendo tornate fino alla storia quindi vi avviso quando vi ritroverete ad hell insieme a treus affronterete quel lupo immortale alla quale poi dopo treus inserirà l'anima del proprio lupo vi ricordate e questo però prima aveva creato degli squarci dovete chiudere tutti gli squarci e se volete vi faccio vedere dove si trovano precisamente sempre con la mappa allora vado in ordine cronologico di come io l'avevo fatto allora a Midgard trovate il primo qui precisamente qui dove io ho il cursore nel pozzo di Urd qui troverete la posizione del primo ripeto sarà il terzo il primo però di quelli che non sono trovabili in automatico perché ricordo due li trovate in automatico dal terzo un po' i no e uno si trova proprio qui a Midgard lo trovate facilmente sconfiggete tutti i nemici una volta fatto vi appunto darà questa lacrima di Hell poi andiamo a Svartalfaim mappa Svartalfaim se intanto vi sto dando una mano per favore aiutatemi giusto con questo piccolo like al video e iscrivetevi se siete nuovi allora precisamente dovremmo trovarci qui ecco qui in questo punto della mappa oppela non collabora a volte il joystick perché ok ritorniamo precisamente qui comunque non c'è possibilità di errore mi ricordo è proprio qui precisamente qui trovate l'altro squarcio quindi qui trovate l'altro squarcio siete a 4 così ne avete trovati 4 vi manca il quinto e il sesto allora il quinto lo trovate in questa regione di Alfheim quindi ricordatevi adesso siete ad Alfheim per il prossimo potenziamento ed è un attimo prima di di entrare qui dentro quindi praticamente siamo in questo punto preciso io vi sposto il cursore per farvi capire anche il punto della mappa li troverete è proprio qui li dovrete poco prima quindi di fare tutto il passaggio che vi porterà all'entrata segreta dello stesso tempio di luce qui precisamente qui quindi siamo a 5 per rimasta la sola ed ultima la sola ed ultima invece ci spostiamo e dobbiamo andare a Vanheim allora qui datemi un secondo solo perché guardandolo dall'alto e stando vi giuro sono da memoria ma sono sicuro che si trovano in queste regioni questa è facile raggiunge vi teletrasportate in questa regione lande meridionali percorrete semplicemente andando dritto lungo questo percorso e ve lo troverete davanti precisamente sarà qui in questo punto qui una volta che avrete preso anche questi voi verrete andate in uno dei negozi di blocchi e sindri le viatano lo potenziate e lo avrete bello bello a livello 9 mi spiace che Kratos non ve lo sposta ma come vedete dal manico migliorerà tanto e esteticamente diventerà veramente bella come la ho in questo momento io vi faccio vedere l'estetica sarà questa mettiamoci a favore di luce sarà questa ora io vi invito a guardarvi tutti i video perché ne trovate tantissimi che vi possono essere di aiuto in combattimento dato che io faccio spesso delle fight magari al primo colpo no death e se imparo e mi metto di impegno faccio le no damage contro i nemici più forti e la massima difficoltà perché io gioco solo ed esclusivamente a un vero God of War non gioco mai difficoltà inferiori troverete le guide per tantissime cose e a breve vi caricherò intanto tutti i collezionabili per chi l'abbia già platinato potrà non essere di aiuto ma chi non l'ha platinato può essere molto di aiuto sapere dove saranno tutti i collezionabili e poi quale sarà la build secondo me più adatta a determinate situazioni dato che questo gioco rispetto al precedente ha una varietà maggiore di armature e quella che vedete adesso in questo momento non è quella finale che io uso è solamente per il video però cercherò di costruirvi una build più adatta e quindi vi invito a seguirmi anche per poter essere aggiornati per questa eventuale guida e per tante altre che farò a secondo del avanzamento del gioco pure quando ci sarà il new game plus e così via solo che non tratto solo God of War ma tratto anche tanti altri giochi quindi vi invito a seguirmi mettere like al video spero che questo video vi abbia aiutato ci spero davvero perché sono stato il più dettagliato e preciso possibile detto ciò un abbraccio ciao a tutti